Il sollievo della sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò a impararla. Assemblea annuale dell'Ordine dei Medici della provincia di Catanzaro. Qui all'Hotel Guglielmo si incontrano le vecchie e le nuove generazioni di medici. Vengono premiati coloro che hanno fatto i medici per 45 anni ma anche coloro che oggi fanno il giuramento di Ippocrate. L'assemblea annuale però è una cerimonia molto importante perché accogliamo i miei iscritti ma diamo la medaglia a chi ha 45 anni di laurea. Quindi capisce bene che è un passaggio di consegna ideale tra chi ha lavorato fino adesso con grande dedizione e chi si mette nella nostra professione, si iscrive alla nostra professione. Che è una professione difficile, è una professione in un momento un po' complicato perché sapete tutti che la sanità in Italia in genere, nonostante il servizio sanitario nazionale venga percepito all'estero come migliore servizio sanitario mondiale tra i primi, ci sono delle crepe e dei problemi che bisogna risolvere. Chi si è iscritto a medicina è una grande persona e amore. E la loro giovanità io sono convinto che riusciranno a risolvere i problemi. Sul decreto Calabria? Credo che il decreto Calabria è la prima volta che si verifica una situazione del genere nella storia repubblicana di questo paese. Dare poi superpoteri ancora di più al commissario, per carità, adesso non potrà, è evidente che adesso non ci sono scuse o scusanti. Vediamo un attimo i risultati perché sicuramente dai risultati non potremmo dire se è stato positivo questo commissariamento oppure no. Sembrava ieri quando ho accompagnato mio padre per ritirare la medaglia dei suoi 45 anni di iscrizione all'ordine. Oggi, insomma, sapere, lo dico anche con orgoglio, ho un figlio che purtroppo è in un'altra regione, si è laureato in medicina e adesso si iscrive, appunto lui fa il giuramento in un'altra regione. E quindi è come dire, è una gioia grande insomma essere qui e rivedere tanti colleghi, insomma, con cui abbiamo condiviso esperienze di lavoro, esperienze di vita. È il coronamento di un percorso lungo ed è ovviamente soltanto l'inizio, però questo è già il coronamento comunque di una tappa di questo percorso, quindi è una bella soddisfazione dopo anni di studio comunque vedere concretizzarsi il tutto. Grazie.